Il Natale ad Ischia Ponte non potevamo che sentire il Presidente del Consorzio Borgo Ischia Ponte, Giovanni Giuseppe Lanfreschi. Che cosa si prevede per questo Natale? Perché per gli altri Natali Ischia Ponte è un po' stata la scenerentola per qualcuno, vero? Diciamo che noi crediamo molto alle favole, però ci siamo adattati molto bene, e quindi da soli abbiamo cercato di creare quell'atmosfera in famiglia, tra amici, come avviene già da un po'. Quest'anno speriamo che sia un Natale caldo in tutti i sensi, però purtroppo tutto quello che ci succede intorno ci preoccupa ancora di più di questa flagellata economia. Però noi dobbiamo essere ottimisti, purtroppo, come si dice, lo spettacolo va avanti e quindi noi andiamo avanti per cercare di preparare un'atmosfera, anche in questo, poi nell'anno santo, dove a Ischia Ponte abbiamo la cattedrale, quindi tutte le manifestazioni saranno spostate nella cattedrale, ci saranno tutta una serie di eventi che comunque, a prescindere, porteranno una forte attenzione, almeno isolana, su Ischia Ponte. Ischia Ponte presenta sempre l'arte presepiale, intorno alla quale è cresciuta l'associazione, con corsi, con informazioni ed incontri durante l'anno, sempre qui al Borgo, dove si sta preparando, questo sarà un anno, diciamo, l'anno del lancio per le tecniche di lavorazione, si stanno preparando tutta una serie di appuntamenti a tema. E' il luogo in cui, ecco, quest'anno è partita l'Officina Sant'Anna, che non vuole essere l'organizzazione della festa, ma un ricordo a quel che è una delle manifestazioni più importanti riconosciute a livello regionale, e quindi la nostra festa di Sant'Anna. Quindi anche intorno a quello che riguarda molto la manualità, l'artigianalità, quindi riporta un po' alle origini quel che è Ischia Ponte. Poi quest'anno abbiamo la fortuna che, grazie al bando regionale, che tra mille difficoltà politiche è partito, alcune attività hanno iniziato a rinnovarsi, avendo quei famosi aiuti di cui abbiamo parlato, ma di cui parleremo meglio, perché per noi non è importante fare clamori, parlare, dire abbiamo, abbiamo fatto, abbiamo detto e abbiamo visto, ma è vedere quel che è stato fatto. Quella è la cosa più importante, quindi alcune attività apriranno per l'Otto, per l'Immacolata, con una nuova luce, altre apriranno per la primavera, altri sono i progetti in cantiere che pian piano stanno andando avanti.